Buongiorno ragazzoli e ragazzole, come state? Spero tutto bene, è una giornata un po' bigio a questa, per cui se mi vedete in questa luce un po' da nebbia della Valpadana è normale, perché effettivamente c'è la nebbia fuori e perché effettivamente sono in Valpadana, dove abito, ma ormai voi lo sapete. Non perdiamoci in ulteriori quisquilide e iniziamo subito perché finalmente vi faccio il video delle letture del mese di non so quanto, perché in realtà uno di questi romanzi risale ancora quest'estate, per cui rendetevi conto di quanto sono in ritardo. Iniziamo appunto con quello, prima che mi dimentico del tutto il libro, perché voi sapete che ogni tanto tendo a rimuovere alcuni pezzi del romanzo. Il libro di cui vi parlo, che quest'estate era praticamente ovunque e dovunque lo potete trovare persino in edicola, temo, è La Verità sul caso Harry Keber, o Harry Keber, scegliete voi come preferite pronunciarlo perché io non ne ho idea, è francese comunque, e il di Joel Dickert, adesso io non ce l'ho qua fisicamente perché era giù da basso, perché in realtà l'ha preso mia mamma e comunque il titolo della Bompiani costa qualcosa come, non dico una ventina di euro, ma comunque ci va vicino e appunto come vi dicevo, io addirittura non l'abbiamo preso al supermercato per dire che comunque è stato un po' il caso editoriale dell'estate, credo perché l'ho sentito sulla bocca di chiunque, tanto si dice così, non lo so, vabbè. Il Di che parla la verità sul caso Harry Keber è la storia di questo scrittore, Marcus, che ha scritto il suo primo romanzo e è diventato stracelebre, l'autore più letto, l'autore di punta del periodo, dopo aver partecipato alle varie feste in suo onore, a varie proghe trasmissioni, interviste sul giornale, e vi dicendo si ritrova a dover scrivere il suo secondo romanzo, il problema è che ha quella cosa favolosa che si chiama blocco dell'escrittore e non riesce a scrivere neanche mezza parola, non sa da che parte iniziale, non sa che cosa scrivere, per cui cosa fa? Va a casa di questo suo amico che era anche il suo ex professore di lettere, appunto Eric Keber, e niente, cerca di farsi dare una mano da lui, il problema è che tra l'altro Harry non lo sente da un sacco di tempo, per cui si è proprio dimenticato nel momento in cui ha avuto un successo strepitoso, Marcus. Harry a sua volta è un scrittore abbastanza celebre, anche lui ha scritto un romanzo con cui è diventato molto famoso, addirittura in questo ristorante dove lui pranzava e scriveva il romanzo, ci hanno addirittura messo una targa, qui il famoso scrittore Eric Keber ha scritto tal romanzo, non mi chiedete il nome perché non me lo ricordo, succede però che poco dopo che se ne va Marcus trovano nel giardino di Eric Keber Nola Kellerman, Nola è questa ragazza che era scomparsa, qualcosa come una trentina di anni prima, più o meno, e che poi si viene a sapere aveva appunto una relazione con Eric Keber, Nola era molto più piccola rispetto ad Harry, per cui, Harry, Harry come volete, per cui scoppia un mezzo scandalo e Marcus decide di mettersi ad investigare perché non crede nella colpevolezza del suo amico, intanto che investica, come dire, il suo editore lo spinge per scrivere anche questa indagine, così, sai, si può sempre pubblicare perché che lui sia innocente, che lui sia colpevole, comunque si vendono un sacco di soldi. Allora, sono passati un po' di mesi da quando l'ho letto, per cui mi sono fatta un po' un'idea nel corso dei mesi, nel senso che vi avessi dovuto fare la recensione immediatamente dopo la lettura, probabilmente vi aver detto delle cose, adesso a distanza di qualche mese ve ne dico qualcun'altra. Cosa vuol dire? Io il libro l'ho, tipo, bevuto, nel vero senso della parola, perché l'ho letto in una giornata, una, e vi assicuro è abbastanza, va, è scritto grande, comunque è abbastanza maloppone, sono 700 pagine, approfittando del fatto che fosse una giornata in cui ha piovuto dalla mattina alla sera, anzi, dalla notte prima alla notte dopo, per cui non c'era fondamentalmente un tubo da fare, eravano tutti molto peghi, le montagne, sono tutti rimasti a casa a leggere. L'ho iniziato di notte, tornando dopo una festa, così ho detto, leggo due pagine e poi me ne vado a dormire, in realtà ne ho lette, non so, tipo 50, e mi sono, come dire, ho cercato di obbligarmi a metterlo da parte e andare avanti la mattina dopo, perché è un libro che è scritto veramente benissimo, ed è scritto così bene che comunque fate fatica a metterlo giù. È scritto talmente bene che a volte, è brutto da dire, però ripensarci a posteriori, mi dà quasi l'idea che sia scritto a tavolino, nel senso che è come se l'autore si fosse fatto uno schema di quando metterci i vari colpi di scena, no? Sapete quelle cose che l'investigatore, in questo caso Marcus, sta scoprendo una cosa e poi improvvisamente la scopre, dopo 50 pagine però si scopre che lui si era sbagliato e quella cosa che ha scoperto in realtà è andata così ma è andata colà. Forse il colpevole sembra quello, però dopo 100 pagine no, però in realtà non è stato lui perché non poteva averlo fatto lui per quest'altro motivo. Cioè è un romanzo ricco di colpi di scena, come dovrebbe essere un giallo, ma come giallo io trovo che sia fenomenale. Voi non avete idea di chi effettivamente sia l'assassino e non lo scoprirete fino all'ultima pagina, ma non è soltanto scoprire chi è che alla fine ha ammazzato Nola, è proprio scoprire cosa c'è dietro a questo assassino, dietro al personaggio di Nola, dietro al personaggio di R e via dicendo. È tutto un insieme di cose che voi volete scoprire, perché all'inizio sì vi interessa soltanto sapere se effettivamente R è colpevole o meno, ma poi andando avanti ma non nella storia si scoprono tante altre cose su altri personaggi perché voi le volete sapere proprio tutto di tutti. E come vi dicevo è scritto talmente bene che non riuscite a metterlo giù, che dovete assolutamente scoprirlo, per cui se vi dimenticate di mangiare è normale, perché è veramente un giallo ottimo. Come vi dicevo, questa sarebbe stata la mia opinione, probabilmente a caldo, appena finito il libro vi avrei detto queste cose. Essendo che è passato un po' di tempo, ne aggiungo qualcun'altra, come dire, non criticando il romanzo, però c'è, come vi dicevo, a parte questa cosa che ci sono i vari colpi di scesa che sono scritti a tavolino, ha molto cinematografico questo libro. Non è scritto come se fosse una sceneggiatura, perché ci sono tantissime parti discrittive, per cui assolutamente non è uno di quei romanzi telegrafici in cui praticamente si parlano e basta i protagonisti, però i dialoghi, la maniera in cui è costruito il libro, ha molto comunque della, se non del film, comunque della serie televisiva, su più puntate, proprio perché comunque ci sarebbe volendo il potenziale per i vari cliffhanger e via dicendo. I personaggi stessi, non è che sono stereotipati, però non hanno quella caratteristica che li distingue da altri, non so bene come spiegarvi, però è brutto dire stereotipati, perché poi sembra una brutta cosa come termine, però sì, non hanno quel guizzo in più, quella cosa che ti dice, guarda io un personaggio così non l'ho mai letto in nessun altro romanzo, no, effettivamente, cioè in tutti i personaggi c'è qualcosa che abbiamo già letto in alcuni altri gialli, se vogliamo la cosa particolare è che nonostante siano passati appunto due o tre mesi, io ancora adesso ho un ricordo sgradevole del protagonista, nel senso che mi stava sulle balle allora e mi sta ancora sulle balle adesso, cioè io Marco solo trovo un personaggio molto antipatico, per cui ho provato pochissima empatia nel corso del romanzo, anche quando era sommerso dalle sfighe, anche quando a un certo punto diciamo si redime, per cui non è che vuole scrivere, cioè vuole indagare sul suo amico per scrivere il romanzo, ma lo vuole fare proprio perché vuole salvarlo, cioè comunque quella cosa di fondo, quella nota di fondo, quella vocina che dice approfittatore, approfittatore, che non sono riuscita a levarmela dalla testa, cioè probabilmente sono io che mi sbaglio, che l'ho letto magari troppo alla svelta, per cui non ho percepito tutte le varie sfumature del personaggio protagonista, però comunque a distanza di tempo non è che ho un bellissimo ricordo di lui, ecco forse questa è la cosa un po' particolare, è il fatto che l'autore ci ha messo un personaggio protagonista che non è proprio questa botta di simpatia, non è che è antipatico, è un po' uno stronze corcettrico, ecco diciamo così, altra cosa che un pochino vi fa sbarellare se ci pensate, è che anche lo stesso autore, anche lui è il suo secondo romanzo, cioè questo romanzo è il suo secondo romanzo, e parla di Eric Hebert, esattamente come il protagonista che sta scrivendo un libro su di lui, per cui è un po' straniante diciamo questa cosa, è molto bello il libro, perché ci sono un sacco comunque di rimandi al mondo dell'editoria, al mondo degli scrittori, ci sono un sacco di rimandi letterari, un'altra cosa che mi ha dato fastidio anzi, è che non ho percepito molto il suo interesse nei confronti di questa povera ragazza e appunto del suo amico, cioè sì, è vero, lui si preoccupa per il suo amico, perché comunque rischia chiaramente, adesso non mi parla di rischia, la pena capitale, ma comunque la galera è sicuro, però non ho mai percepito quella cosa, non lo faccio più per soldi, lo faccio solamente per lui, per dire, mentre lo leggevo pensavo, siccome non l'ho letto da tanto tempo, a uomini che odiano le donne, cioè il protagonista, questo Michael Blomqvist, è vero che lui era stato ingaggiato per soldi, perché doveva scoprire, dove era finita la nipote appunto, del magnate, questa Harriet, e lui lo inizia a fare per soldi, cioè lui fa questa indagine, fondamentalmente perché vi è impagato, e perché così si può sistemare la reputazione, perché quell'altro aveva delle informazioni, sul tipo che Michael ha sputtanato, vabbè, detto ciò, lui lo fa per soldi, lo fa per una mera ragione economica, però dopo un po' nel romanzo, si capisce che, è vero, c'è sempre questa questione dei soldi in mezzo, però gli preme anche a scoprire, che è questo pezzo di merda, che ha ammazzato tutte queste donne, e che eventualmente ha fatto fuori Harriet, è questa, cioè la differenza, tra quel personaggio, e quest'altro di questo romanzo, nel senso che qua, io ho questa empatia, questo volere aiutare, il suo amico, e volere scoprire cosa è successo a questa povera ragazza, l'ho percepita un pochino di meno, però come vi dicevo, forse sono io che l'ho letta troppo alla svelta, perché volevo sapere come andava a finire, per cui non mi sono concentrata troppo sulla lettura, ma più che altro sui vari fatti, che accadevano, per appunto arrivare alla scoperta finale. Il prossimo libro, questo qui l'ho letto un pochino meno di tempo fa, è Il Lercio di Irvin Welsh, questo ve l'avevo citato, quando vi avevo parlato dei personaggi preferiti dei libri, e vi avevo detto che io e Irvin Welsh, non abbiamo un grandissimo rapporto, io anni e anni e anni fa, andavo ancora al liceo, per cui vi parlo liberamente, un bel po' di anni fa, Lessie, Transpotting, per quanto io posso apprezzare il romanzo di sé, mi ha talmente disgustata, e io immagino comunque fosse il senso profondo del romanzo, di disgustare il lettore, che non ho, ho mollato completamente l'autore Irvin Welsh, salvo comprare qualche anno dopo Porno, che era il seguito appunto di Transpotting, e mollarlo dopo un centinaio di pagine, perché per me è uno dei romanzi più pallosi che ho mai letto nell'universo, a tutt'oggi io non so come va a finire, infatti tutta sta faccenda di Transpotting, se dovessero fare il film, andrò a vedere il film, se qualcuno di voi vuole mandare un messaggio, me lo vuole raccontare, sarei molto felice, tanto per sapere che fine fa poi Mark Renton, comunque se effettivamente lo fanno fuori, per via della bastardata, che combina la fine di Transpotting. Comunque, detto ciò, il Lercio l'ho iniziato a leggere, per un motivo puramente, come dire, utilitaristico, nel senso che, deve uscire il film, se mai da noi uscirà, ma all'estero è già uscito, ovvero Filth, con James McAvoy, che sapete che è un attore che mi piace molto, per cui mi sono detta, va là, leggo il libro, anche perché la trama sembrava interessante, in realtà, quello che inizia come se fosse quasi un giallo, alla base del romanzo Il Lercio, ci sta questa indagine, sull'omicidio di questo uomo di colore, è soltanto un mero pretesto, per raccontarci le varie vicissitudini, della vita del protagonista, che è questo poliziotto, che è Bruce Robertson, che è un personaggio orribile, in tutti i sensi della parola orribile, che spera di risolvere il caso, per ottenere una promozione sul lavoro, a cui sta dietro da un sacco di tempo, però ha paura che ci sia qualcun altro nell'ufficio, che gliela possa fregare, per cui lui cerca in tutti i modi, di risolvere il caso, il fatto che il lavoro di poliziotto, non è che lo interessi particolarmente, non nel senso di, faccio il poliziotto per aiutare le persone, ma fondamentalmente per poter usufruire, di alcuni privilegi dei poliziotti, perché chiaramente lui dice, io sono un poliziotto, per cui sono al di sopra della legge, e ne combina una più bastarda dell'altra, che a Bruce Robertson non ne frega fondamentalmente un cacchio, dell'essere un poliziotto per aiutare gli altri, perché è un drogato, uno che va a prostitute, e tutti gli anni ha la sua bella settimanina, programmata ad Amsterdam, il titolo originale appunto, Filt, che più che il lercio, sarebbe proprio il lerciume, si riferisce a lui in tutti i sensi, oltretutto, non è una persona soltanto sporca dentro, diciamo moralmente, ma anche fuori, e forse queste sono le parti, come dicevo, un po' più disgustose, perché figuriamoci, se da trespotting questo libro deve cambiare qualcosa, io ci sono ancora alcuni pezzi, che mi ricordo di transporting, di questi li ho proprio chiari, impressi nella mente, e non ve li dirò, perché ve li lascio godere in toto, perché il problema è che Bruce ha un ospite, all'interno del suo corpo, che ogni tanto si fa sentire, nel corso del romanzo, e no, sono pezzi molto interessanti, e voi tralasciate il fatto che sì, non sia proprio una cosa bellissima da leggere, sono parti molto divertenti, cioè dovete un attimino combattere col disgusto, nell'andare avanti all'altura, quando avete deciso che ok, sì fa schifo, però è anche altrettanto divertente, potete godervela in pieno, però non vi dico che è quest'ospite che parla, che si fa sentire, altre parti, che mi rendo conto sono, cioè, è brutto, perché voi all'inizio lo odiate Bruce Robertson, perché dite, guarda questo pezzo di merda, come si comportano, però dopo un po', purtroppo, diventa divertente, soprattutto, quando fa, non so, gli scherzi telefonici, la moglie del suo amico, quando cerca di trascinare il suo amico ad Amsterdam, poi lo droga, per fargli fare delle cose, perché il suo amico è uno molto precisino, e lui chiaramente lo droga, perché, se no, questa Amsterdam se ne voleva stare tutto il tempo in camera, poi se non mi ricordo male, gli fa anche alcuni dispensi, non mi ricordo, forse gli rubava il portafoglio, gli occhiali, comunque, vabbè, ne ne combina una dietro l'altra, è uno stronzo tutto qua, il protagonista, però, è molto divertente, e a questo proposito, infatti, domando a voi, che magari avete letto altro di Irving Welch, se ci sono dei romanzi simili, trovo quella cosa più geniale, a parte avere appunto questo protagonista, che non ne combina una giusta, e non ha niente, per cui voi potete provare simpatia, dall'inizio alla fine del romanzo, come vi dicevo, la cosa più geniale è la fine, voi arrivate verso, non so, tre quarti del romanzo, che vi chiedete, ma ho capito, ma Irving Welch come ha intenzione di chiuderlo, cioè, o lo lascia in sospeso un po' il libro, dicendo, guarda, alla fine Bruce Robertson ha fatto questa cosa, bom, e niente, cioè, continua con la sua vita, similvita, quant'altro, dopo averne combinate una peggio dell'altra, o se no, gli dà proprio il colpo di grazia, nel senso, lo finisce col finale bomba, e lui lo finisce col finale bomba, che io sinceramente non mi sarei aspettata, però è una generata pazzesca, ed è orribile perché in quel momento si leggono i pensieri di uno, che è appunto dell'ospite amico, del caro Bruce, ed è, no, è geniale, veramente, trovo che la fine sia stata una delle parti più geniali, mi è piaciuto molto comunque come è scritto questo romanzo, apprezzo che il Wim Wage, navighi nel sporcizia alla grande, ci venga a raccontare ogni particolare zozzo, e non zozzo nel senso, come dire, sfondo sessuale, del protagonista, appunto, di Bruce, così, con una grazia, e con una, è molto diretto, ecco, per cui se, ci sono alcune cose che mi danno fastidio, da leggere, che riguardano, diciamo, le evacuazioni del corpo umano, io fossi in voi, eviterei di andare a prendere questo libro, perché sennò veramente vi viene da vomitare ad un certo punto, oddio che come la scena del lenzuolo di tre spot che non ce n'è, però anche questo ha la sua buona dose di schichezza, che se ci penso, adesso mi è venuta in mente una cosa che era meglio che non mi veniva in mente, comunque, no, è un libro molto divertente, però dovete andare al di là di, di tutto questo, e come vi dicevo, apprezzo il fatto che ogni tanto si trovino dei, degli scrittori che si azzardano a, appunto, scrivere dei romanzi con dei personaggi che non hanno niente, per cui voi magari tifate, però alla fine il personaggio vi rimane comunque in testa, e comunque in un certo senso vi piace, ecco, come appunto succede con Bruce. Prossimo romanzo, questo ce l'ho da farvelo vedere, perché in realtà io il lercio l'ho letto in ebook, è questo qui, che è Le memorie di Jack lo squartatore, di Clannash, che non so se si pronuncia così, comunque è il, come si dice, è lo pseudonimo di un attore inglese, per cui, in realtà non mi è finto, non so perché ho detto questa obietà, però vabbè, fa niente, questo libro mi è stato regalato, dalla Eli, ancora a febbraio, ci ho messo un po', effettivamente, per decidere di andarlo a ripescare, di leggerlo, e l'ho iniziato a leggere in treno, è un libro, non ve lo so dire, si chiama Le memorie di Jack lo squartatore, perché è esattamente quello che dice il titolo, ovvero una specie di diario, di quello che è Jack lo squartatore, ed è un libro appunto, che volevo leggere da un sacco di anni, perché, diciamo che la figura di Jack lo squartatore, mi ha sempre molto affascinata, perché comunque fa parte, di quell'epoca che è l'età vittoriana, e di quella città che è Londra, che come voi sapete io amo tantissimo, e in realtà è perché, queste figure di serial killer assassini, non perdetevi con una psicopatica, però mi hanno sempre incoriusito, è strano come funziona, non so, il cervello umano, che porta alcune persone a fare, determinate cose, e a compiere determinati delitti, così efferati, appunto come ha fatto anche Jack lo squartatore, allora, il libro è scritto in una prosa molto bella, che ricorda molto i romanzi dell'Ottocento, per cui ha questa maniera un po' pomposa, di narrare le sue gesta, il protagonista appunto Jack lo squartatore, la cosa che mi ha lasciata più spiazzata, che non ho ancora capito, non ho ancora deciso se è un pregio, o se è un difetto, è il modo così freddo, lucido e razionale, di raccontare delle gesta così efferate, nel senso che Jack lo squartatore, di questo romanzo, non è che è uno psicopatico, che la sera si sveglia, proprio la sera si sveglia, e decide di, dice ma adesso esco di casa, e sventro una, gli strappo l'utero, e me lo porto a casa, e me lo nascondo nel vaso, di fianco al letto, no, lui con calma, si prepara, si mette il guantino, prende il coltello, se no, poi va e ammazza, cioè questa cosa, mi ha lasciata un po' spiazzata, nel senso che, non che io abbia mai pensato, che Jack lo squartatore, fosse uno psicopatico, perché se no, l'avrebbero catturato, in 30 anni secondi, chiaramente, doveva essere una persona, molto fredda e razionale, però pare che lo faccia più come hobby, cioè io c'è l'hobby del punto croce, tu c'è l'hobby del fare a maglia, questo semplicemente va, e scorta le prostitute di sera, questo suo diario, queste sue memorie, sono un po' l'elenco delle cose, della sua vita passata, del fatto che lui abbia studiato da medico, del fatto che lui faccia comunque il medico, è psichiatra, si è sposato, ha avuto i figli, bla bla bla, ti racconta tutte queste cose, poi ad un certo punto dice, ma io poi questa notte ho fatto così, così ho ammazzato una, e lui dice, come? Così me lo dici? Senza anni, anche un preambolo, cioè non c'è un motivo vero e proprio, per cui lui inizia ad uccidere queste prostitute, non è che lui ha avuto un rapporto con una prostituta, lì ha attaccato alla sicilia, invece l'ha con tutte le prostitute, e paga ammazza, che per carità può essere anche un approccio originale, se vogliamo, a i motivi che hanno spinto questa persona, che ancora oggi non si sa chi è, ad andare ad ammazzare tutta questa serie di prostitute, certo lascia un po' spiazzato il lettore, mi sarebbe piaciuto, non so, un altro tipo di approccio, un altro tipo di racconto su Giacolo Squartatore, nel senso, ok non mi devi dire esattamente chi sei, tu perché l'hai fatto così, però se magari mi dai un'idea generale del perché, del per come, non so, forse riesci un pochino di più a prendermi, poi il fatto è che, è qui a Giacolo Squartatore che si raccontano, essendo che è il personaggio, il Villian, quello che noi intendiamo come Villian, che si racconta, sarebbe stato spiazzante il fatto di tifare per lui, tu dici cacchio è lui che si racconta, io non posso tifare per uno che comunque andava ad ammazzare delle donne, non si prova molta empatia nei confronti di questo personaggio, ma semplicemente perché, non dà molto spazio ai suoi sentimenti, come vi dicevo, è un lungo elenco delle cose che lui ha fatto, per cui non capite mai perché lui le fa, non capite se ha i sensi di colpa ma non pare, comunque perché sennò l'avrebbe penso detto, non capite se gli interessa che forse lo stanno per catturare, non ci viene mai svelata quella parte di sé e dei suoi sentimenti, per cui noi lo andiamo a comprendere un po' di più, rimane tutto molto freddo come vi dicevo, non soltanto lui prima di agire e di uccidere le persone, è proprio lui persona molto gelida, per cui noi non sappiamo mai niente di troppo su questo appunto personaggio, è più che un romanzo sembra quasi un saggio ad un certo punto. Il prossimo libro di cui vi parlo è un libro che ho dovuto leggere in inglese, perché l'originale sarebbe in tedesco, io il tedesco come voi lo sapete non lo conosco, di conseguenza ho dovuto un po' arrangiarmi, perché in italiano non è stato tradotto. Il libro si chiama Me and Kaminsky ed è di Daniel Kelman, ve ne avevo già parlato quando vi parlavo dei personaggi preferiti nel mese, perché appunto avevo citato Manuel Kaminsky. Me, che in originale, aspetta, in originale il libro era Ich und Kaminsky, se vi interessa, perché magari qualcuno di voi sa il tedesco, perché se lo vuole leggere in originale, vabbè per dire che Me sarebbe Sebastian Zöner, che è il protagonista, che è questo giornalista, che è uno spiegato patentato, ma non è neanche sta botta di simpatia, che vuole ridimersi dopo tutta una serie di fallimenti personali, tra cui la fidanzata che l'ha mollato, l'ha buttato fuori di casa e ha a rischio anche il posto di lavoro, o forse l'aveva già rischiato il posto di lavoro, non mi ricordo, sa di fatto che lui vuole scrivere una biografia su questo famoso pittore, che è Manuel Kaminsky. Manuel Kaminsky, che tra parentesi non esiste, io nella mia sana ignoranza di storia dell'arte, sono anche andata a cercarmelo, perché mi suonava Kaminsky, però in realtà è perché c'è un pittore famoso che si chiama Kaminsky, vabbè, non dite niente, per favore, voi che studiate arte, però io purtroppo sono ferma a metà degli anni 50 e del 900 su storia dell'arte, e più in là non ci vado perché non sono mai stata una fan dell'arte tipo postmoderna o contemporanea, per cui sono un po' bloccata lì, sta di fatto che Manuel Kaminsky comunque non esiste, ve lo dico io, e niente, lui vuole scrivere una biografia su Manuel Kaminsky, ma fondamentalmente perché? Perché Manuel Kaminsky ha un mezzo piede nella fossa, lui dice guarda io scrivo la biografia, se questo mi schiatta, faccio le vendite alle stelle, no? Il fatto è che Manuel Kaminsky è un personaggio un po' particolare, molto eccentrico, oltre ad essere abbastanza rincoglionito, vuole l'età, è pure cieco, e non si sa bene se è diventato più famoso per questa serie di cose, più che forse per i quadri e per il suo modo di dipingere, no? Per la serie, guarda, essendo tu un artista che ne so, è come quello che dipingeva soltanto, non so, col piede sinistro, per dire se è diventato famoso per quello, perché c'è tutte queste sfighe fisiche per cui tu adesso puoi diventare famoso, no? Se invece eri sano come un pesce, bello come il sole, non ce lo diventavi. Per cui vi si racconta anche questa parte della storia dell'arte un po' magari cinica, se vogliamo. Oddio che il personaggio protagonista non è che... cioè, è lui stesso, diciamo, l'emblema della cinicità. Succede però che Manuel Kaminsky trascina il povero, a questo punto, Sebastian, in un viaggio in macchina, perché lui vuole andare a cercare questa Teresa di cui era follemente innamorato da giovane e che vuole rivedere prima di morire. Per cui Sebastian si ritrova a fare un viaggio assurdo con questo personaggio che è ancora più assurdo, che è Kaminsky, che cerca tra l'altro di intervistare in macchina per cercare appunto di notizie, per scrivere la sua biografia, perché chiaramente quando era andato a casa sua ha dovuto lottare con la figlia di Kaminsky, che non è anche lei molto simpatica, ma in realtà è l'unica che l'ha capita veramente, cioè ha capito che Sebastian vuole intervistare il suo padre soltanto per motivi economici. E niente, succede appunto, come dicevo, che Sebastian mi è trascinato in questa serie di disavventure. Il libro è molto carino, è molto piccolo, come vi ho detto, per cui non è che siano approfonditi particolarmente tutti i personaggi e tutte le loro vicende. Ci sono alcuni momenti comici che coinvolgono due personaggi protagonisti. è molto divertente perché non si sa mai, cioè ad un certo punto ci si domanda, anzi, se Manuel Kaminsky ce la ci fa, cioè se fa apposta a fare il rincoglionito, se è effettivamente così rincoglionito, e ci si domanda se alla fine Sebastian capirà che insomma, se rimarrà fregato così tanto da capire che non è la cosa più giusta andare a sfruttare le povere persone, morenti, e se forse è lo stesso Manuel che glielo farà capire. È un libro che ha in teoria un sacco di potenziale, che forse non è stato sfruttato al meglio, però c'è un però, nel senso che io non è che sono andata a pescare un libro del genere così a caso, nei meandri della letteratura tedesca. In realtà, quando ho visto Goodbye Lenny e sono andata a cercare se il regista aveva fatto degli altri film, ho scoperto che ha appena finito di girare un film tratto da questo libro. Allora sono andata a leggerlo, ed effettivamente è un libro che ha alcuni momenti comici che per me poi sul grande schermo potrebbero rendere tantissimo. Perciò, non so, se volete leggerlo in preparazione appunto del film, tra l'altro c'è anche uno spettacolo teatrale se vi interessa, però penso l'abbiano soltanto mandato nei teatri tedeschi, per cui non lo so, immagino, nel senso che non mi sono informata più di tanto. Però sì, è un libro molto divertente appunto con parecchi spunti comici e un po' ci godete comunque, soprattutto nei confronti di Sebastian, che all'inizio del libro è uno che se la tira molto, ecco, però alla fine vedrete che cosa gli fa cambiare idea su appunto su Manuel, che anche lui all'inizio vi sta magari simpatico, dopo antipatico, poi ancora simpatico. sono personaggi molto belli, molto ben costruiti, nonostante la trama non sia comunque originalissima, perché la cosa del viaggio in macchina e che comporta un cambiamento poi dei due personaggi protagonisti, non è che sia una cosa che non si è mai letta, non si è mai sentita, però nonostante questo trovo che ci sono alcuni spunti, come vi dicevo, molto divertenti, come vi ripeto per l'ennesima volta, sicuramente spunti che renderanno molto di più, immagino, sul grande schermo, comunque io il film lo aspetto con ansia, grande regista, mettiamoci pure il cast che insomma non è proprio da buttare via e via, non vedo l'ora comunque di vederlo. L'ultimo libro, anche questo ce l'ho a cartaceo, che è questo, Mildred di James M. Cain, questa versione qua, sono bellissimi i libri pocket, sicuramente in casa ne avrete un casino, quelli della Longanesi che costavano una scemata, 350 lire, io in realtà l'ho trovato su un mercatino qua a Cremona quando c'è il mercatino dei libri che fanno adesso, se vi interessa, per caso passate per Cremona ve lo dico, si trovano su alcune bancarelle un sacco di libri a un euro, tipo questo, poi avevo trovato anche degli altri, peccati di Payton Place e via dicendo, però se vi interessa veramente venire a cercare delle chicche di libri, ve la lancio, il giorno di Santo Mobono, che è il 13 di novembre, se non mi ricordo male, fanno tutta una serie di mercatini in centro a Cremona appunto nelle varie piazze che ci sono, ma soprattutto in piazza Stradivare mi ricordo che è la prima piazza che c'è a Cremona, c'è appunto questa serie di mercatini dove io ho sempre fatto abbastanza incetta di libri perché se ne trovano veramente tanti, perché è come se la gente svuotasse le soffitte, ti portano lì gli scatoloni ci scrive un po' un euro, due euro e voi trovate un sacco di libri. Mildred è il romanzo da cui hanno tratto la miniserie della HBO, quella famosa con Kate Winslet, che non mi ricordo se aveva vinto anche dei Golden Globe degli Emmy. Mildred, per chi di voi non avesse mai letto il romanzo, non avesse mai visto la miniserie, è questa donna che viene mollata, si fa mollare comunque dal marito che ha un amante e si ritrova a dover mantenere la casa e le due figlie. All'inizio diventa l'amante di questo amico del marito, socio, anzi del marito, proprio per convenienza diciamo. Poi capisce però che l'unica maniera per guadagnare dei soldi oltre a vendere le torte che lei è molto abile nel fare è di cercare sul lavoro. Inizia come cameriera, poi da cameriera impara qual è il mestiere per cui mette su un ristorante e via dicendo. Ricomincia e di lì inizia un po' la sua scalata al successo. Il problema è che di pari passo con la sua scalata al successo le capitano tutta una serie di sfighe personali che però non la minano nel senso che lei comunque decide di andare avanti e non si fa abbattere da tutta questa serie di sfighe. C'è da dire che se il suo lavoro va sempre più bene oltre alle sfighe personali lei si fa abbattere molto dal comportamento della figlia vita che è questa figlia che lei è cresciuta come se fosse una principessina che è fondamentalmente una stronza che si dà tutte queste aree di superiorità e che chiaramente Mildred si sente molto in soggezione della figlia soprattutto quando si ritrova a fare la cameriera a servire ai tavoli gli altri perché Vida si sente talmente importante che non accetta il fatto che sua madre vada a servire delle altre persone addirittura c'è questa scena orribile in cui Mildred nasconde la divisa di cameriera alla figlia la figlia la trova perché è una che gli va a frugare nei cassetti e la dà a questa specie di tata di governante che hanno in casa nonostante Vida sappia benissimo che quella lì è la divisa della madre tutto il romanzo è pervaso da questo desiderio di quasi tutti i protagonisti di fare dei soldi adesso noi siamo non ve l'ho detto ma il periodo quello dell'America della grande depressione perché chiaramente è un periodo in cui i soldi non cedevano lavoro neanche le donne comunque non erano emancipate già che una donna lavorasse comunque era non dico visto male ma sicuramente la donna è meglio che stia a casa a sfornare torte e a tirare sui figli piuttosto che a lavorare soprattutto come fa Mildred che dopo diventa una specie di imprenditrice che come vi dicevo ha un amante è stato ha mollato il marito perché poi è una donna divorziata con due figlie cioè lei vive una vita un po' tra virgolette scandalosa ma la cosa più scandalosa è che tutti i personaggi sono molto tantissimo attaccati ai soldi Mildred per rendere felice la figlia non è che pensa le do un bacio l'abbraccio no le devo comprare il pianoforte perché è la cosa che desidera più al mondo le devo pagare le lezioni di equitazione le devo comprare le vestiti belli cioè lei rende felice la figlia vuole rendere felice la figlia vida soltanto regalandole dandole le cose che lei più desidera che non sono affetto che non è l'amore di una madre ma soltanto denaro 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 ad un certo punto come dicevo lei a questo amante Monti Monti è una specie di nobile decaduto che perde i suoi soldi perde la casa e così lei per tenerselo vicino cosa fa? lo mantiene semplicemente questo gli dà dei soldi per cui così lui rimarrà accanto a lei perché è lei quella che inizia a smollare soldi i suoi stessi dipendenti iniziano a fregarla cioè ruota tutto intorno a quello e mano a mano chiaramente tutta la vita di Middard si sgretolerà chiaramente proprio a caso di questi soldi perché lei all'inizio non è che pensa apre un ristorante solo per fare i soldi ma soprattutto per dimostrare agli altri che io da sola ce l'ho fatta dopo questa cosa mano a mano si perde e lei inizia a pensare soltanto in quell'ottica appunto come diciamo mettiamoci pure che i rapporti interpersonali con la figlia con l'ex marito con il nuovo amante mano a mano iniziano a rovinarsi la critica maggiore che è stata fatta al libro è che gli uomini non ci fanno una gran bella figura in questo libro in realtà neanche le donne ci fanno una gran bella figura perché sì Mildred è vero è una che lotta per avere successo per ottenere successo per ottenere i soldi per avere l'amore dei suoi figli delle sue figlie anzi per avere l'amore di Monti e vi dicendo però anche lei stessa a un certo punto si dimostra Greta è avida esattamente come tutti gli altri i suoi stessi amici che all'inizio erano amici poi le vanno a chiedere soldi come lei se fosse la gallina delle uova d'oro Monti che appunto all'inizio è tratto da lei pure lui dopo la tratta come se fosse un bancomat cioè non c'è un personaggio che alla fine ne esce bene da questo romanzo nemmeno la stessa Mildred che comunque è quella che alla fine se la prende più nel sedere rispetto a tutti gli altri ecco è comunque un bellissimo romanzo che a me è piaciuto molto soprattutto per come è scritto e ho amato tutti i suoi personaggi anche quelli che mi servono più antipatici chiaramente e certo Bida no quella non la sopportavo nella serie televisiva figuriamoci in questo io vi consiglio di vedere anche la serie comunque sono praticamente identici serie e romanzo sono uguali l'unica cosa è che adesso è un romanzo di Mildred Pierce forse si chiama proprio tutto Mildred Pierce lo trovate forse in Adelphi e costa un casino di soldi per cui io mi consiglio di andare a fare un giro su qualche mercatino perché magari riuscite a pescarlo in giro bene detto ciò ho un po' esaurito le batterie dopo aver fatto questa mega video di libri spero di non avervi annoiato fatemi sapere che cosa ne pensate se avete letto alcuni di questi libri vi rigiro appunto la domanda quella sui romanzi di Irving Welsh per cui fatemi sapere se c'è qualche romanzo altro romanzo sullo stile del Lercio e più sullo stile del Lercio che sullo stile di Telespotting Sherlock non taggrappare al vestito io vi saluto e vi auguro buone letture ciao